Le penne stilografiche hanno sempre emanato un'aura di leganza e raffinatezza catturando i cuori di scrittori, artisti e appassionati di penne in tutto il mondo. Se sei un novizio nel regno delle penne stilografiche non avere paura, cercheremo di aiutarti e di accompagnarti mano per mano a un progetto per svelare il mondo incantevole di questi squisiti strumenti di scrittura. Perché le penne stilografiche si distinguono dalle penne a sfera convenzionali sia per il loro design intricato e la finezza artistica che conferiscono all'atto della scrittura. A differenza delle penne a sfera che si affidano a un cuscinetto a sfera per erogare l'inchiostro, le penne stilografiche funzionano secondo un principio più sofisticato. Nel cuore di una penna stilografica l'inchiostro scorre attraverso un pennino realizzato con precisione, la punta di scrittura della penna. Questo pennino, disponibile in una serie di materiali tra cui acciaio inossidabile, oro, titanio, svolge un ruolo fondamentale nel dare forma all'esperienza di scrittura. Per i principianti è fondamentale selezionare una penna adatta alle dimensioni della propria mano e allo stile di impugnatura. Optate sempre per penne leggere con design ergonomici, se non amate le penne di sostanza, che garantiscono una scrittura confortevole per periodi prolungati. Considerate penne con punte intercambiabili che vi consentano di sperimentare diversi stili di scrittura. Le penne stilografiche offrono il lusso di utilizzare un'ampia gamma di colori e tipi di inchiostro. Dai blu vivaci a neri classici e persino agli inchiostri scintillanti, le scelte sono infinite. Gli inchiostri a base d'acqua sono popolari tra i principianti per la loro facilità di pulizia e flusso fluido. Sperimentare con i colori dell'inchiostro può aggiungere un tocco creativo alla tua scrittura, rendendola sicuramente più piacevole. Una corretta manutenzione, è fondamentale per garantire che la tua penna stilografica duri anni. Una pulizia regolare, soprattutto quando cambi colore di inchiostro, previene gli intasamenti e garantisce prestazioni ottimali. Utilizza un convertitore, un converter, per inchiostro in bottiglie o cartucce monouso compatibili col tuo modello di penna. Si consiglia di pulire la penna ogni poche settimane per per mantenerne la funzionalità impeccabile, ma senza esagerare, perché il rischio continuo di una pulizia, oserei dire, maniacale, produce l'effetto contrario e alla fine daglie e daglie la tua penna stilografica rischia di subire dei danni. Le penne stilografici rispondono a diverse pressioni e angolazioni di scrittura. Sperimenta con la tua presa e l'angolazione con cui tieni la penna per trovare lo stile di scrittura più comodo ed efficiente per te. Con la pratica scoprirai l'arte di creare diverse larghezze e stili di linea, aggiungendo carattere alla tua scrittura. Inizia il tuo viaggio con le penne stilografiche più semplici. Esplora anche i kit di base o i modelli convenienti di marchi rinnovati. Spesso questi kit includono campioni di inchiostro e diverse opzioni di pennino, consentendoti di sperimentare e trovare il tuo stile di scrittura preferito. Interagisci con i gruppi Facebook e utilizza i canali YouTube per imparare degli appassionati di penne stilografiche e cercare consigli su misura per i principianti. In conclusione, immergersi nel mondo delle penne stilografiche da principiante può essere sia emozionante che travolgente. Ricorda, la chiave è esplorare, sperimentare e godersi il processo. Con la penna giusta, l'inchiostro giusto e la carta giusta e un po' di pratica ti ritroverai presto immerso nell'arte della scrittura con la penna stilografica. In bocca al lupo. Sono tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No, non c'è più.